Pedalare, divertendosi e pensando all'ambiente è stato possibile grazie alla domenica dedicata alla bicicletta. Da Palermo ad Arezzo, da Parma a Sassari, tutta Italia in bici grazie al Bici in Città, una manifestazione che in 90 città del nostro stivale ha ospitato domenica l'iniziativa su due ruote più grande del paese. Una festa di sport per tutta la famiglia, una biciclettata non agonistica e aperta a tutti, grandi e piccini, per occupare in modo pacifico le città e chiedere più aria pulita e centri vividi. Una giornata divertente senza dimenticare quanto si soffrende il nostro ambiente a causa dell'infinamento prodotto da noi stessi. Per questo, almeno la domenica, rilanciare l'uso delle due ruote si può con l'associazione Sport per Tutti, che mette al centro dell'iniziativa i temi dello star bene del nostro pianeta. Una visione dello sport che affronta il problema dell'inquinamento nel suo complesso, dall'utilizzo di fonti di energia rinnovabile alla trasformazione dei trasporti urbani e nobile. Il tutto per divertirsi pedalando e far star bene la nostra terra.